Tu, tu, in braccio, tu, vieni con mamma, in braccio, ci vieni, si. Emanuele ha tre anni, è un bambino molto allegro, come si sveglia la mattina subito sorride. E' vispo, è curioso di quello che ha intorno e soprattutto non sembra soffrire di tutto quello che non può fare. Non può respirare da solo, non può camminare, non può parlare, non può ascoltare nulla, non può fare quello che fa un bambino della sua età. Durante le notti che ero in ospedale con lui, ho cominciato a disegnare quello che avevo nella testa, le sensazioni che provavo avendo Emanuele accanto. Ho disegnato un mostro terribile che lui si porta dentro, che è una parte di lui e che lo attacca, che lo aggredisce. Ci sono dei momenti in cui ci siamo guardati negli occhi, io e questo mostro, e anche io ho tremato parecchio. Pochi giorni dopo che ci hanno dato la sua diagnosi ufficiale, Emanuele si è sentito male. Ha avuto grosse difficoltà a respirare e l'abbiamo dovuto portare in ospedale. In quel momento ho pensato seriamente che Emanuele volesse mollare e mi ricordo che mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che volevo che continuasse a lottare, ma che se voleva rendersi andava bene così. Poi si è risvegliata e ha sorriso. Ed è stato bellissimo perché ero certa che non voleva mollare. Scoprire che lui non poteva sentire tutto quello che gli succedeva intorno, non poteva sentire la mia voce, è una cosa che mi ha sempre fatto molto male. Certe volte penso che questo lo tenga lontano da tutti noi. Mi piacerebbe rispondere alle sue domande, mi piacerebbe ascoltare quello che vuole, quello che sente, quello che prova. Vorrei che lui potesse sentire quello che gli dico, vorrei poter sentire io la sua voce. Emanuele è un dono incredibile. Ho sempre pensato che se Emanuele è nato in questa famiglia è perché io e il mio marito potevamo essere i genitori migliori per lui. E lui poteva essere il figlio migliore per noi. Emanuele di Bello ci ha portato una grande unione come famiglia. Non abbiamo mai pensato di chiuderci nella sofferenza di questa cosa, perché nonostante la sua malattia la nostra famiglia può essere felice. Io posso essere felice, Emanuele può essere felice. Non lo so per Emanuele che è mamma solo. Spero che lui mi veda come una mamma forte. Spero che quando lo prendo in braccio lui si senta protetto. Nessuno ti insegna ad essere una mamma. E nessuno ti insegna ad essere una mamma di un bambino particolare come Emanuele. Grazie a tutti.